Con questo tutorial vediamo come poter andare a determinare l'equazione della circonferenza nota una retta tangente. Partiamo da alcuni esempi molto semplici e poi aumenteremo piano piano la difficoltà da questo video in poi. Scrivi l'equazione della circonferenza di centro c 3 meno 1 è tangente all'asse delle ordinate. Per risolvere questo esercizio conviene partire da un disegno. Sappiamo che la circonferenza ha centro c 3 meno 1 che rappresentiamo in figura. Sappiamo inoltre che la circonferenza che dobbiamo andare a determinare risulta essere tangente all'asse delle ordinate, ovvero deve essere tangente all'asse delle y. Da questa osservazione possiamo dedurre che il segmento bc dovrà essere il raggio della circonferenza, ma il segmento bc ha lunghezza pari a 3 che è pari al valore assoluto dell'ascissa del centro. Abbiamo allora centro e raggio, possiamo applicare la formula della circonferenza noto centro e raggio. Questi valori sono le coordinate cambiate di segno del centro e questo è il raggio al quadrato. Adesso sviluppo e vado a riscrivere in forma canonica ed ottengo quest'equazione della circonferenza. Vediamo quest'altro esempio. Determina l'equazione della circonferenza con centro c meno 2 meno 5 e tangente all'asse delle ascisse. La prima cosa che vado a fare è andare a indicare il centro della circonferenza in un piano cartesiano, quindi il punto c ha coordinate meno 2 meno 5. Sappiamo che la circonferenza che dobbiamo determinare risulta essere tangente all'asse delle ascisse, allora vuol dire che questo segmento dovrà essere il raggio della circonferenza che dobbiamo scrivere. Ma questo segmento corrisponde al valore assoluto dell'ordinata del centro e siccome che l'ordinata del centro è pari a meno 5, allora vuol dire che il raggio sarà pari a 5. Abbiamo a questo punto il centro e il raggio e allora possiamo applicare la formula della circonferenza noto centro e raggio. Questi valori sono le coordinate del centro cambiato di segno e 25 è il raggio al quadrato. Adesso vado a sviluppare, vado a riscrivere questa equazione in forma canonica ed ottengo questa equazione della circonferenza. Vediamo quest'altro esempio. Scrivi l'equazione della circonferenza di centro c meno 2 meno 3 e tangente alla retta di equazione y uguale 3x meno 1. Questa è la retta di tangenza della circonferenza e questa retta ha equazione y uguale 3x meno 1. Lo scopo è andare a determinare questa circonferenza rossa, cioè la circonferenza che ha questo centro e tangente a questa retta. Per scrivere l'equazione della circonferenza noi abbiamo bisogno di centro e raggio. Il centro ce l'abbiamo, quindi dobbiamo andare a determinare il raggio della circonferenza. Se osserviamo in figura, questa distanza qui cA corrisponde proprio al raggio della circonferenza, ma questo segmento non è nient'altro che la distanza del punto c dalla retta y uguale 3x meno 1. Allora vuol dire che per determinare il raggio di questa circonferenza sarà sufficiente fare la distanza punto retta. Per calcolare la distanza punto retta dobbiamo andare a scrivere questa retta in forma implicita. Il punto ce lo abbiamo, che è il centro, e adesso applichiamo la formula. Svolgendo i calcoli otteniamo 4 fratto radice di 10. Allora vuol dire che il raggio di questa circonferenza è 4 fratto radice di 10. Ora abbiamo il centro e abbiamo il raggio e possiamo andare a determinare l'equazione della circonferenza. Sviluppando questa equazione e andando a riscrivere in forma canonica, dopo aver fatto il minimo comune multiplo, si ottiene questa equazione. Vediamo quest'altro esempio. Trova l'equazione di centro c 3 2 e tangenta la retta passante per i punti a meno 1 0 e b meno 5 3. In figura ho rappresentato il centro della circonferenza c di coordinate 3 2 e i punti a meno 1 0 e il punto b meno 5 3. Lo scopo è andare a determinare l'equazione di questa circonferenza. Sappiamo che questa circonferenza ha il centro c 3 2 ed è tangente alla retta che passa per a e per b. La prima cosa che ho fatto è andare a disegnare la retta che passa per a e per b, cioè questa qui. Per scrivere l'equazione di una circonferenza abbiamo bisogno di centro e raggio. Il centro ce l'abbiamo, dobbiamo calcolare il raggio, ma il raggio non è nient'altro che la distanza di questo punto c dalla retta che passa per a e b. Allora, per risolvere questo esercizio, dobbiamo andare a calcolare la retta che passa per a e per b, cioè questa, e poi eseguire la distanza del punto, cioè del centro, dalla retta che abbiamo calcolato. In questa maniera determiniamo il raggio. Applicando la formula della retta passante per questi due punti otteniamo che questa è l'equazione della retta che passa per a e per b. Ora, per calcolare il raggio, possiamo andare a fare la distanza del centro dalla retta. Applicando la formula e svolgendo i calcoli, otteniamo che il raggio è pari a 4. Ora abbiamo centro e abbiamo raggio ed applichiamo la formula della circonferenza nodo centro e raggio. Svolgendo i calcoli, otteniamo che questa circonferenza ha la seguente equazione. Vediamo quest'ultimo esempio. Scrivi l'equazione della circonferenza tangente agli assi cartesiani e avente centro meno 5 meno 5. In figura ho disegnato il centro di coordinate meno 5 meno 5. Noi dobbiamo andare a determinare l'equazione di questa circonferenza e sappiamo che risulta tangente all'asse delle x e all'asse delle y. Possiamo osservare che per essere tangente all'asse delle x e all'asse delle y questa distanza dovrà essere uguale a questa distanza, ma possiamo osservare che questa distanza è pari a 5 e questa distanza è pari a 5. E allora possiamo andare a dedurre che il raggio di questa circonferenza è pari a 5. Conosciamo il centro e conosciamo il raggio e a questo punto possiamo applicare la formula della circonferenza nodo centro e raggio. Sviluppo ora i calcoli e vado a riscrivere in forma canonica ed ottengo questa equazione e con questo termino il tutorial su come poter andare a scrivere l'equazione di una circonferenza nota una tangente. Grazie a tutti.